Continua la stagione travagliata e contraddittoria del Taranto Calcio. Carmine Gautieri infatti non è più l'allenatore dei Rosso Blu. La notizia è stata data direttamente dal club pugliese tramite un comunicato pubblicato nella serata di mercoledì 13 novembre che annunciava l'esonero del tecnico, arrivato solo lo scorso agosto al posto del dimissionario Ezio Capuano. Una scelta che può sembrare a prima vista inspiegabile dato che i Rosso Blu erano reduci da due vittorie di fila in campionato per 1-0 in casa dell'Avellino, quarto in classifica e l'ultima nel derby pugliese contro l'audace Cerignola secondo. In panchina però l'ormai ex allenatore Rosso Blu non era più presente. Gautieri infatti aveva inviato alla società un certificato medico per giustificare la sua assenza e al suo posto era presente il tecnico della primavera Michele Cazzarò. Dopo la pesante sconfitta rimediata lo scorso 31 ottobre per 5-0 contro il Potenza era infatti evidente che qualcosa si fosse ormai rotto tra la squadra e Gautieri con il tecnico che si era subito tirato fuori dal discorso senza però dare le dimissioni. Le due prove convincenti di quello che inizialmente doveva essere solo un traghettatore hanno poi convinto la società pugliese a puntare forte su Michele Cazzarò. L'ex allenatore della primavera Rosso Blu sarà infatti confermato come allenatore della prima squadra per la stagione in corso. Quest'ultimo avrà il difficile compito di portare il Rosso Blu alla salvezza ereditando una classifica tutt'altro che semplice. Il Taranto infatti è attualmente penultimo in classifica con soli 9 punti davanti solo alla Juventus Next Gen ferma a quota 7 punti dopo 14 giornate.